Ma vi fa male adesso vedere chi c'è la chiesa? Ah, allora, mi sembra essere un gallutto. La comunità di Baiano è ancora scossa per il crollo che ha interessato l'altra notte la chiesa di Santo Stefano. Fortunatamente il momento di cedimento di parte dell'intonaco dal soffitto non c'erano messe, altrimenti rischiavano di essere coinvolti da crollo, da un fiorelmo e i fedeli. I vigili del fuoco hanno intanto messo a riparo la statua del santo patrono e il presepio e la chiesa è stata temporaneamente chiusa per permettere all'impresa di effettuare l'intervento di messe in sicurezza del solaio. Considerando l'emergenza, le celebrazioni in programma per il Natale si terranno presso la paesta della scuola e un'altra parrocchia del paese. Sì, perché se fosse capitato durante lo svolgimento delle messe sicuramente avrebbe creato danni anche fisici purtroppo a chi celebrava, quindi al nostro don fiorelmo. Innanzitutto dobbiamo ringraziare Santo Stefano da questo punto di vista che ha evitato che la cosa fosse peggiore di quello che è successo. È chiaro che sì, da subito ci siamo attivati per far sì che le messe venissero svolte in altri luoghi, quindi non solo nell'altra chiesetta che è quella di Santa Postoli che è disponibile da subito, però è piccolina, ma anche per le messe che sono un po' più partecipate, quelle che noi chiamiamo le messe di notte e che vengono svolte tutte le mattine alle 5 e mezza fino a Natale, verranno svolte nelle scuole medie perché hanno una partecipazione molto alta e quindi abbiamo preferito fare così. Da subito ci siamo messi in contatto con Don Fiorelmo, con la Curia, con la comunità parrocciale per cercare di capire cosa fosse successo. Da una prima analisi sembra che non è un cedimento del tetto vero e proprio ma bensì dell'intonaco del soffitto, che ci permette di guardare con ottimismo alla risoluzione della problematica. Comunque attendiamo che i tecnici facciano il loro percorso e cercheremo in tempi brevi di supportare Don Fiorelmo per la riapertura della nostra chiesa. È anche un Natale di grande speranza, è un Natale nel quale la comunità probabilmente riscopre quei valori veri anche dello stare insieme, a prescindere dalla festa, dell'aspetto religioso che comunque viene salvaguardato e quindi credo che noi dobbiamo prendere anche ciò di positivo che c'è nel non svolgere determinate iniziative che magari potrebbero creare problemi da un punto di vista sanitario.